Ci troviamo al Passo Fedaia, sopra i 2000 metri di altezza, vedete anche nevicato Vedete il lago Fedaia? Stupendo sto panorama, meraviglioso, sopra i 2000 metri di altezza, vedete che ha nevicato, sto caminando sopra la neve, così vedete bene che lago? Guardate che spettacolo unico, vedete il lago del Fedaia? Con le cime innevate, vedete la marmolada? Qui la marmolada, vedete? Qua abbiamo un ristoro, guardate che meraviglia, vedete? E qui la marmolada? Qui potete acquistare souvenir, questo è il museo della grande guerra, 1914-18, vedete? Vedete? Qui si prende la seggiovia, ma adesso è chiuso guardate, guardate che meraviglia, guardate che meraviglia, guardate che meraviglia, vedete la meraviglia e qui c'è la strada chiusa e qui c'è la strada chiusa siamo sopra il passo fedaia sopra i 2000 metri di altezza ci sono 5 gradi qui 18 settembre parlate che meraviglia c'è la marmolata guardate che meraviglia guardate che meraviglia guardate che meraviglia guardate che meraviglia vedete sempre il lago del fedaia e qui termino con la marmolata guardate che meraviglia ora passo pedaglia sopra i 2000 metri sopra i 2000 metri Grazie a tutti. E qui a Meriamo lago Fedaia, vedete? Vedete la marmolata? Vedete? 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 vedete il lago Fedaya la marmolata vedete si travede il ghiacciaio se vedete il ghiacciaio è inghiacciata la marmolata si intravede è il lago Fedaya e qui chiudo questa panoramica meravigliosa adesso chiudo col ghiacciaio sempre col ghiacciaio che ho fatto vedere prima eccolo qua mi sposto un po' più in qua e travedete il ghiacciaio e qua